Piazza Vittorio Verde Una piazza triste la cui manifestazione si è svolta in termini democratici e pacati dall'inizio alla fine. Diversa invece quella di Piazza Castello che non era una manifestazione ma una mobilitazione gestita da più organizzazioni tramite il web e che aveva non solo fine di creare disordini e infastidire. La polizia ha cercato di tenere separate le due cose e di evitare infiltrazioni in Piazza Vittorio. Gli scontri in Piazza Castello sono iniziati fin da subito con bombe carta, pietre e porfido lanciate contro la polizia, la quale ha risposto con una leggera carica. L'obiettivo era di sgregare le forze per colpire Piazza Castello, il quale pulsante di Torino. Il bilancio complessivo è di 10 arresti e 4 denunciati. Continua però l'attività investigativa della questura di Torino che in questo momento sta visualizzando centinaia di telecamere di sorveglianza e svolgendo superluoghi finalizzati all'individuazione di ulteriori responsabili. Il questore ha sottolineato che tra gli arrestati e comunque tra i faccinerosi non c'era nessun commerciante o detentore di partita IVA, solo persone, soprattutto giovani, con diversi precedenti penali. Ieri sera c'erano due piazze, aggiunto il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, una di gente per bene, a cui do ascolto e le cui ragioni mi accompagneranno nell'interroquire con il governo, e una dei delinquenti, per i quali ci vuole rigore, nessuna comprensione, ma punizioni esemplari. Grazie.